Amici 3B Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà ancora una zona di bassa pressione presente sull'Europa orientale e questa bassa pressione continua a richiamare aria freddina verso le nostre regioni portando anche molta variabilità soprattutto al sud. Contriamo la nuvolosità attesa sull'Italia e come vedete in molte zone del sud ma anche su parte del centro Italia un po' di nuvole di passaggio le vedremo e queste nuvi tanto in tanto porteranno anche degli acquazzoni. Contriamo infatti le precipitazioni a te sul nostro paese, si tratterà però più di rovesci di pioggia, scrosci di pioggia di breve durata che interesseranno appunto buona parte delle regioni mediali, stavolta più il versante tirrenico. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì che ancora una volta vedrà il sole su gran parte del nord, proprio al nord dove invece avremo un gran bisogno di pioggia. Sole anche su parte del centro Italia, Alte Marche, Umbria, Toscana e Sardegna. Nell'Italia molta variabilità, nuvole che vanno e vengono, la possibilità di qualche acquazzone e qualche pievasco in giornata e in tutto il paese temperature che per il momento rimangono sotto la norma. Per sapere comunque come andranno le cose da voi anche a Pasqua e Pasquetta consultate l'app di Trevi Meteo.